Grazie ancora a tutti voi, andate e convertite le gentili! Ah 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 ah! Piove! Ma avevo fatto delle... Madonna sono vecchio di dirmi, non è un coglionista! Allora avevo preparato delle domandine semplici semplici per farvi partecipare e per vedere se siamo veramente sintonizzati con voi! Siete pronti? Volete rispondere? Anche se piove? Scusatemi, ho dimenticato anche di un'osservazione che è necessaria! Piove, governo ladro! Volete essere ancora governati nei prossimi cinque anni da questi signori? Siamo d'accordo? Noi! Potete credere ancora alle loro infinite bugie? No? Questa è facile! Credete che possono fare qualcosa di diverso dal disastro al quale hanno portato l'Italia? Volete che mi mettono di nuovo le mani nelle tasche? Noi! 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 Noi!